Ho trovato una chiamata molto particolare, di solito non rispondo ai numeri che non conosco, ma in quel caso ho risposto. Io ne ho sentito uno, si vergognava in maniera, lo si sentiva comunque dalla voce stridula che si vergognava. Ha cercato di fare un numero, ha trovato il mio numero, ha chiamato me, alla fine ha voluto chiudere anche in fretta la telefonata perché aveva paura che capissi o potessi capire chi era, ha balenato il fatto di dire se non trovano una soluzione io mi vergogno troppo con la mia famiglia, la mia famiglia non sa niente della mia situazione reale, io sparisco, mi tolgo la vita. Questa la testimonianza di un piccolo imprenditore dell'Alta Padovana raccolta da Marco Paccaniella di Feder Contribuenti. Un uomo abituato a lavorare che da garzone di bottega è riuscito a costruire un'impresa. La moglie scherzando sulle sue mani dice che potrebbero grattugiare il formaggio da quanto sono ruvide. Imprenditori così hanno costruito il Veneto e ora sono in grossa difficoltà. Ho un problema, mi ha detto, sto andando in depressione, sto andando in depressione e comincio a vedere tutto in bianco e nero. Al più presto, se mi arriva qualcosina, almeno i 25 mila per acquistare i prodotti, il materiale che mi serve per la lavorazione della materia prima, io inizio e già lavorando poi non ci penserei più. L'associazione di Paccaniella sostiene che siano almeno 25 i suicidi in Italia durante questo periodo di quarantena. Sono molte le associazioni che si mettono a disposizione anche per gli imprenditori in difficoltà. Non bisogna scivolare nella disperazione. Chiunque abbia qualche problema o abbia qualche strana idea ci chiami immediatamente. I soldi arrivano, arriveranno, arriveranno a breve. Stiamo facendo una pressione impossibile con le parti politiche che sono di destra, di sinistra, sono trasversali a livello parlamentare perché arrivino i denari nei conti correnti e che la gente non si trovi comunque non solo da non poter mangiare ma da non poter operare e che l'azienda, magari storica, muoia. Se chiude non riaprirà mai più.